Ciao, bentornati o benvenuti sul pensiero non lineare. Sono la dottoressa Di Maio, psicologa clinica, ed anche oggi sono qui con voi per continuare un po' insieme questo viaggio alla scoperta della psicologia. Ho deciso di dedicare questo viaggio di Erno in particolare ad un autore, Jean Piaget, un autore che desta, non dirà, da un po' di pensieri in tutti coloro che si trovano a dover studiare ed approcciare appunto l'autore in questione. Questo perché Piaget ci ha fornito un impianto teorico molto vasto e particolare, piuttosto complesso per certi versi, e quindi diciamo che coloro che si trovano magari a dover studiare la psicologia dello sviluppo, ma anche la pedagogia, qualche volta viene anche citato in filosofia, quando di solito sentono il nome di Piaget, hanno qualche brivido. In particolare quindi ho deciso oggi di concentrarci però su un punto specifico della vasta opera, come dicevo, di Piaget, che è l'epistemologia genetica. Che cos'è allora l'epistemologia? Facciamo una cosa, trovate il vostro posto sull'aereo del pensiero non lineare, allacciate le cinture e partite con me per una nuova tratta di viaggio con la psicologia. L'epistemologia è quel ramo della filosofia che si occupa della conoscenza. Secondo Piaget l'epistemologia riguarda il problema della relazione tra soggetto, agente e pensante e gli oggetti della sua esperienza. Piaget quindi parte in sostanza da una domanda. Si chiede se è possibile che possa esserci una conoscenza obiettiva senza che questa sia influenzata dalla natura di colui che conosce. Nella teoria di Piaget infatti si considera la parte genetica della teoria epistemologica, laddove per genetico non si intende, non ci si riferisce a quanto diciamo di innato, ma ci si riferisce allo sviluppo e all'emergere. Studiando i cambiamenti evolutivi nel processo di conoscenza e nell'organizzazione della conoscenza, Piaget aggiunge a spiegare i suoi studi su proprio quelle che i filosofi hanno considerato le principali categorie del pensiero. Quali sono queste categorie? Tempo, spazio, causalità e quantità. Categorie ovvie per un adulto, ma siamo sicuri che sia così anche per un bambino? Infatti Piaget sostiene che non siano poi così tanto e altrettanto ovvie anche per i bambini stessi. Piaget quindi si chiese come e quando i bambini arrivino a comprendere, a capire che ad esempio due oggetti possono occupare lo stesso spazio e ad esempio, questo anche molto importante, che esistono anche quando loro non li vedono. Piaget quindi può essere definito come un epistemologo o un sperimentatore, quindi un epistemologo sperimentale. Perché? Perché in sostanza lui si rifiutò di compiere diciamo degli studi prettamente mentali, ma decise invece proprio di procedere con delle ipotesi che potessero essere verificate. Sono noti infatti gli studi che lui compì proprio partendo dall'osservazione dei propri bambini. Piaget quindi cosa pone? Pone come soluzione al problema dell'epistemologia il fatto che la conoscenza debba essere considerata come un processo piuttosto che uno stato. Il bambino conosce e comprende una palla come? Attraverso le azioni che fa su di essa, attraverso la manipolazione, quindi vede che la palla può essere mossa, può essere lanciata, può essere tirata, che ritorna, che agisce e reagisce alle sue azioni, ma possono essere compiute anche delle azioni mentali, quindi non soltanto fisiche, posso immaginare e pensare alla palla stessa. Una persona quindi cosa fa? Costruisce la propria conoscenza in quanto prende parte attiva al processo di conoscenza e contribuisce anche alla forma che prende la conoscenza stessa. La conoscenza quindi che ha il bambino cambia con lo sviluppo del suo sistema cognitivo. Come cambia il conoscente, così cambia anche il conosciuto. Questo è importantissimo. Un'implicazione quindi della teoria di Piaget è che la conoscenza non è oggettiva o perlomeno finché non si raggiunge un determinato stadio finale in un certo dominio. Bene, anche per oggi il nostro breve viaggio, la nostra piccola tappa è giunta al termine. Spero che sia stata di gradimento. Se ci sono curiosità, feedback, o volete tentare agire con me, sarò ben lieta di rispondere ai vostri commenti. Magari possiamo anche trarre spunto da questo piccolo viaggio, da questa tratta che abbiamo fatto per parlare un po' insieme magari anche sull'osservazione che abbiamo potuto fare di fratelli, cugini, se magari abbiamo qualche bambino in casa e abbiamo visto come giunge a consolidare la propria conoscenza, sarebbe anche interessante poter scambiare qualche commento inerente a quanto detto. Per oggi quindi ci lasciamo. Slacciate anche le vostre cinture, allontanatevi dal vostro posto, ma non troppo, perché l'aereo del pensiero non lineare e del viaggio con la psicologia partirà molto presto per una nuova tratta di viaggio con la psicologia. Alla prossima allora, ciao!